Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio, sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa, sulla FIPILI in direzione Firenze per lavori un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est e rallentamenti per lavori tra il BIVIO per la A12 e Lavoria sul ramo di Livorno. E in direzione Mare, code per lavori tra Santa Croce e Montopoli. Su raccordo Siena-Firenze ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Monteriggioni e Siena Nord, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Truneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. vi auguriamo un buon viaggio!